Rimani aggiornato sulle notizie di gossip, cronaca, reality show, sport ed altro. Iscriviti al canale Notizie Flash. E, Gigio, Donnarumma il vincitore del premio Yashin di miglior portiere del mondo per il 2021. L'ex milanista è stato, incoronato, questa sera a Parigi. Cosa provo per essere già, a 22 anni, il miglior portiere del mondo? Il commento dal palco dell'ex milanista ho ancora tanto da imparare, ma questo premio è il frutto del lavoro quotidiano. Per me è stato un anno incredibile, a partire dalla qualificazione in Champions con il Milan, poi gli europei con cui abbiamo dato gioia a tutti gli italiani, e a noi stessi. E, stata un'emozione indescrivibile. E poi era destino che passassi al PSG, perché questo club mi seguiva da anni.